Uffa, mi è passata la voglia di giocare. Ora che faccio? Potrei guardare un po' di televisione. Su, vediamo che c'è in tv. Sì, non sono d'accordo. Ma sono d'accordo. Cosa? Vabbè, i politici sparano sempre cazzate. Ma questa, le batte tutte. Buonasera a tutti. E benvenuti alla primissima puntata di Schifactor. Dove vince chi ha nessun talento. Ecco il primo concorrente. Si chiama Bernard, e arriva direttamente da Parigi. Fate un bel applauso a Bernard. Io io, fratello e amica, non vuoi lo mi sto bagnando, l'Uxello sono troppo bello, dovrei andare al grande fratello. Per me è assolutamente sì. Per me è no, ha una bellissima voce, e va troppo a tempo, è troppo bravo per questo programma. Assolutamente no, e non aggiungo altro. Non saprei, è troppo bravo, fatemi pensare. Mi dispiace ma ti devo eliminare. Ed ecco qui il secondo concorrente. Si chiama Michela Ede di Roma. Nel blu dipinto di, come faceva, ha si dipinto da un dipingitore che volavo, no volava, alto nel sole, e poi bruciava di bruciore, nel blu dipinto da un bianchino birichino. Guarda, che bel tramonto. Sì, è fantastico. Non è fantastico quanto te. Merda, mi sa chi è morta. È meglio che me ne vado. Quanto odio questi telefilm. Con la mia ragazza ne avrò visti più di mille, e sono tutti uguali. Sa, mettiamo il canale che trasmette il più bel telefilm del mondo. Mi sembra che sia arrivato alla puntata 1064. Capitano Spork, ho individuato una navicella nemica. Attacchiamo? No, aspettiamo, magari non ci attaccherà. Capitano, Robot Scott, abbiamo individuato una presunta navicella nemica. Sto ti in allerto. Per ora non attacchiamo lì, non voglio sprecare munizioni. Sì signore, e ora cosa facciamo? Vai nel dormitorio, io arrivo dopo. Ok, ci vado subito, tanto ho sonno. Non ci attaccano, questa cosa è molto strana. Hai ragione, è una cosa molto strana, dobbiamo agire per primi. Katie, attiva subito le protezioni, e subito dopo inizia a sparare i missili KTC-121. Sì signore. Robot Scott, ma perché mi hai ammanettata? Ora l'uverrai, stai tranquilla. L'uverrai, non ti forno molla. Troppo molla. Mio. Salve gentile pubblico di Sogno TV. Da giovane ho sempre avuto un sogno. Questo sogno era di bere senza ubriacarmi. Da oggi questo sogno si può realizzare. Ho inventato un medicinale, si chiama Alcol Plus. Prendendo Alcol Plus, potremo bere finché avremo voglia. E non ci dovremo più preoccupare di non esagerare con gli alcolici. Alcol Plus è un medicinale in compresse, che riesce a eliminare l'alcol dal sangue. Quindi potremo anche metterci alla guida dei nostri veicoli. Su che aspettate, chiamate ora. Il medicinale costa soltanto 50 euro alla confezione. Chiamate il segunte numero. 899 000 113. È di sicuro una truffa. Ma ci sono sempre i cretini che credono a questi prodotti miracolosi. Da, cambiamo canale. Stupida macchinetta, mi ha mangiato i soldi. Li rivolgo indietro. Ehi bella, ora do due colpetti. E vedrai che potrai avere la brioche che meriti. Te non farai nulla, io sono Caccomen, il supereroe che salva le fanciulle in pericolo. Hai capito? Brutto stupratore dei miei cocones. Ma io non ho fatto nulla di male, non la volevo molestare. Volevo aiutarla ad avere la sua brioche. Dicono tutti così. Ora in alto le mani, e tieni dentro il salame. Capito. Amore, smettila di guardare la tv, e ascoltami. Cosa vuoi? Spero che non sei più arrabbiata con me. Forse un pochino. Ma ho una buona notizia per te. Su dimmi, sono curioso. Andiamo in camera da letto, e poi ti spiego tutto. Arrivo subito. Mi sa che si è ciuma. Sprechere munizioni. Voglio fare un gioco con voi. Scrivete nei commenti una storia che vorreste vedere per i prossimi episodi. Ne sceglierò una o più. Ovviamente le storie scelte daranno la possibilità di vivere ai creatori delle storie. E per gli altri si vedrà. Buona scrittura.